Per la decima giornata del campionato prima categoria, girone G 2021-2022, l'Aciaiolo ospita tra le Muramiche e il Castelnuovo-Val di Cecina. Padroni di casa che schiamano dal primo minuto Armadori, Tilazzaro, Bono, Cutroneo, Paoli, Ceccarelli, Piletti, Verani, Giansoldati, Lice e Rosellini. Ospiti che rispono con Marrucci, Giommoni, Malossi, Ndoie, Di Erasmo, Scenderi, Cascinelli, Grandoli, Mimini, Lucarelli e Pannocchi. Dopo appena 20 secondi dal fischio di inizio Giansoldati su destra punta in 1-1 di Erasmo, va via in velocità e mette al centro un pallone molto invitante, Piletti non trova il contatto con la sfera e la palla scivola fuori. Al nono minuto Rosellini vince un contrasto con Malossi, si involla inserendo le marce alte verso l'area avversaria, entra nei 16 metri e con un diagonale mette la palla alle spalle di Marrucci per l'1-0 dell'Aciaiolo. I gialloblù continuano a spingere, Di Lazzaro manda in avanti per Giansoldati che supera Andoie e cerca la soluzione dal limite, Marrucci respinge, su Piletti interviene e Malossi, Giansoldati viene respinto da Andoie che poi mura anche Rosellini prima che il Castelnuovo riesca finalmente a liberare l'area. Poco dopo arriva un corner per l'Aciaiolo, la palla scodellata a centro area finisce tra i piedi di Piletti che da buona posizione spara alto sopra la traversa. Intorno al quarto d'ora si fa vedere il Castelnuovo, un rimpallo favorisce Pannocchi che mette in mezzo, la difesa respinge sui piedi di Mannocchi che serve al limite Grandoli, la sua conclusione viene murata dalla triguarda dell'Aciaiolo che poi allontana il pericolo. Al diciannovesimo Piletti strappa la sfera dai piedi di Indoi e punta dritto verso l'area ospite prima di servire Giansoldati che con una sterzata fa fuori di Erasmo e firma la rete del 2-0 per i padroni di casa. La replica del Castelnuovo non si fa attendere a lungo, Lucarelli appoggia in avanti per Mimini che prolunga per Cascinelli che spalla la porta, si gira e calcia mandando la sfera out. L'Aciaiolo ci prova di nuovo sul calcio d'angolo, alla battuta va Lici, palla sul secondo pallo per Cutroneo che per pochi centimetri manca lo specchio della porta, i padroni di casa continuano a proporsi in avanti, Rosellini gestisce un buon pallone vicino all'auto di destra e crossa sul pallo più lontano per l'inserimento di Lici, il suo tentativo al volo, si perde oltre la linea di fondo. In chiusura di primo tempo di Erasmo mette un filtrante per Pannocchi, chiuso bene da Paoli, la palla resta lì e finisce nella zona di Mimini che spreca la chance per riaprire la partita, spedendo il pallone fuori. In avvio di ripresa, corner per gli ospiti sulla rovesciata di Pannocchi, un grande intervento di Almadone del palo, salva la porta d'accello e mantengono il doppio vantaggio per il giallo-blu. Al sessantesimo su un retropassaggio di Schenderi, il controllo di Marrucci non è dei migliori, Piletti si avventa su di lui, gli ruba la sfera e appoggia in rete il 3-0 per i padroni di casa. Passano appena due minuti, Rosellini si mette in proprio partendo dalla metà campo, giallo-blu arrivato al limite punta Malossi, rientra sul destro, si protegge dal ritorno di Schenderi e batte Marrucci mettendo la firma sul 4-0 per l'acciaiolo. I giallo-blu non si fermano, punizione da tre quarti, Rosellini mette al centro, la palla schizza sulla traversa prima di terminare fuori. Al sessantottesimo minuto calcio d'angolo per i padroni di casa, Cutroneo sul primo palo anticipa tutti e colpisce di testa, Pannocchi salva sulla riga ma Cutroneo è sveglio e sulla ribattuta di potenza fa 5-0 in favore dell'acciaiolo. Nel finale il Castelnuovo cerca di rendere meno amare alla sconfitta, Mimini fa d'attore alla larga destra per Serenari che va per un cross-basso sul quale però non arrivano né Battistoni né Mansuri e l'azione sfuma in un nulla di fatto. All'ottantottesimo Lucarelli mette un pallone morbido per Mimini che spizza all'indietro per Creatini che senza persianci un attimo pennella un gran tiro che supera Armadori per il più classico dei gol della bandiera. Cala dunque la manita all'acciaiolo che supera di slancio il Castelnuovo-Val di Cecina infliggendo un sonoro 5-1 che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Dopo un primo tempo terminato avanti 2-0 nella ripresa, il giallo-blu nel giro di 8 minuti hanno chiuso definitivamente la questione lasciando solo le bricciole ai rivali di giornata. La banda di Mister Campanile ha offerto prestazioni di altissima qualità dimostrando rispetto alle uscite precedenti un maggior cinismo sottoporta. Con questo successo Acciaiolo balza al secondo posto in classifica a pari merito con Massa Valpiana e Tirrenia a quota 19 punti a sole 4 lunghezze di stanza dalla capolista geotermica.